buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale youtube stamattina finiamo quello che è la nostra cosi dice la nostra sedia mobile costa poco male appunto e facciamo lo schienale ok quindi nel frontale attiviamo le foto è quello messa in trasparenza un attimino così almeno non ci disturbano e lo schienale questo qui però mari per perché non ci disturbi quello dietro possiamo fare una cosa andare a selezionare quello dietro momentaneamente andare a cancellarlo ok perché non ci serve che teniamo solo questo frontale ok poi andiamo a spegnere le gambe la seduta il cuscino così non ci disturba eccolo qua questo diciamo alla forma del mio del mio schienale ok io direi che possiamo tranquillamente andare a costruire in questo modo qua quindi utilizzando un arco un arco quindi possiamo partire da qua uno e 12 e andiamo a un primo arco poi creiamo un secondo arco che partire da qua e arriverà qui e sarà leggermente 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 un attimo che mi sposto quindi parte da qua arrivo qui e sarà leggermente tondo ok e poi il terzo che parte da qua e arrivo più in questo modo perfetto ecco l'unica cosa che questo deve essere allineato a quello sopra quindi le fotografie intanto le spegniamo andiamo a prendere sposta attiviamo il medio ci agganciamo al medio ci agganciamo al medio anzi con lo smart track attivo ci agganciamo al medio e andiamo verso il basso eccolo qua perfetto e poi facciamo una copia speculare di questi due quindi andiamo a prendere la copia speculare che è questa qua ok selezioniamo aspettate no no questo aspetta copia speculare questo invio eccolo qua perfetto allora a questo punto qui andiamo a chiudere a chiudere queste e queste curve sempre con questo comandino qua che mi piace tantissimo che raccordo blend arco raccordo blend arco 1 1 2 invio e 1 1 2 invio poi una 1 2 invio che 1 1 2 1 2 1 1 2 invio perfetto poi uniamo 1 2 3 4 5 6 7 8 invio e poi andiamo a troncare a troncare dal medio al medio selezioniamo tutto tronca tronchiamo la parte sinistra e selezioniamo questa andiamo nella vista superiore e andiamo a prendere il questo comando qua di distorsione quindi il piega ci agganciamo al fine ci agganciamo al fine e andiamo a piegare questo in questo modo qui ok perfetto ma che avremo un applicatore questo tipo qua facciamo di nuovo una copia speculare selezioniamo benissimo e qui non ci ha agganciato e l'agganciamo subito 1 2 perfetto facciamo un misce quindi 1 2 3 quindi abbiamo unito tutto questo qui adesso non ci resta altro che con un un arco ci agganciamo al primo al secondo andiamo nella vista di destra e gli diamo un po una curvatura in questo modo qui perfetto e andiamo a crearci con il patch la nostra superficie vola fatto questo creiamo un offset offset superficie la superficie invio invio ok e andremo a fare adesso il profilo ok per il profilo facciamo come prima quindi andiamo a prenderci un un arco con attivo fine medio e ci colleghiamo 1 e 2 2 andiamo nella vista di destra e andiamo a crearci il nostro profilo tipo una roba del genere e con subito binari quindi primo binario secondo binario secondo binario invio invio ok quindi abbiamo creato anche il profilo dello schienale quindi andiamo ad unire 1 2 3 perfetto quindi questo è lo schienale quindi schienale perfetto che lo portiamo sopra in alto e come colore lo facciamo un acqua marina può andare bene questo lo portiamo sul livello perfetto perfetto e riattiviamo la seduta cuscino e le gambe ok e lo schienale dovrà essere messo nel posto giusto quindi andiamo a ruotarlo ad appoggiarlo e lo ruotiamo di nuovo più o meno una roba del genere ok andiamo nella vista frontale e prospettica vediamo dovrà essere leggermente più grande perché così è troppo piccolo quindi andiamo nella vista frontale scala 3d dal basso partiamo dal basso e andiamo a ingrandirlo un attimo ok perfetto io direi che così può andare bene ok curve le portiamo nel livello curve benissimo facciamo un salva ok e la nostra nostra sedia è finita quindi andiamo nella renderizzata ecco bene o male la nostra sedia è finita magari manca ecco manca diciamo probabilmente ma anche qui ecco il cuscino anche qui dello schienale però questo va bene potete farlo tranquillamente andando si può anche estrapolando questa superficie qui rendendo un po più larga allora si può fare una roba di questo tipo qua allora possiamo andare nell'ombreggiata questo e spegniamo tutto il resto perché non è sbloccato gambe ok questo e spegniamo tutto il resto contro z allora questo ben detto spegniamo tutto il resto perfetto qui facciamo un control c ok andiamo a esplodere perfetto ed eliminiamo cance cance benissimo ok questo lo possiamo fare quindi con offset superficie sempre offset superficie stavolta con distanza 2 invio invio benissimo e anche qui andiamo a creare sempre con l'arco ci agganciamo a metà e a metà destra benissimo e creiamo anche qui un sweep ad binari quindi primo binario secondo binario curvi sezione invio e invio ok ok poi facciamo unisci 1 2 e 1 3 perfetto contro il v ok e riattiviamo tutto il resto ok e questo qui facciamo cuscino schienale cuscino schienale voilà sezione cambio oggetti livello questo diamo un colore tipo tipo panna una roba del genere tipo questo ok perfetto eccolo qua ma si può fare anche leggermente più grande quindi partiamo dal centro e poi uno e due destra un pochino più in alto così perfetto eccolo qua e la nostra sedia è finita nel tutto salviamo ok indirizzata ok poi ovviamente gli diamo i nostri materiali eccetera e andiamo a rifilare profilare meglio quelli che sono anche anche i profili smussandoli un attimino eccetera eccetera ok spero che sia stato interessante questo video anche per sergio e per tutti voi un like e iscriviti al canale ci vediamo prossimi video da venerdorovati ciao ciao